La disperazione di parenti, amici e vicini è grande per questa ennesima tragedia familiare. Teatro del dramma, un'abitazione della frazione Santa Rita di Montalto Fugo in provincia di Cosenza. Un uomo di 53 anni, Giovanni Petrasso, agente della polizia penitenziaria, avrebbe primo ucciso la moglie, la 48enne Maria Grazia Russo, probabilmente con la propria pistola d'ordinanza, per poi togliersi la vita con un successivo colpo. L'omicidio-suicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite familiare. La coppia ha due figlie, una che vive fuori regione e l'altra diciottenne che era in casa nel momento in cui l'uomo ha sparato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare i due, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. È stata proprio la figlia, fortunatamente rimasta illesa, trovandosi in un'altra stanza, a allertare le forze dell'ordine dopo aver trovato a terra i corpi dei genitori. Per chiarire la dinamica dei fatti è stata aperta un'inchiesta.